Il nuvola può aspirare su qualsiasi superficie, grazie ad una potenza che può variare da 100 a 1200 Watt. Avremo un pulito igienicamente perfetto, questo perché tutto quello che aspiriamo non viene filtrato dai comuni filtri di carta di cui sono dotati la maggior parte degli aspirapolveri in commercio, che pur essendo di ottima qualità non potranno mai garantire un filtraggio al 100% perché la potenza stessa dell'aspirapolvere spingerà le parti più piccole attraverso i filtri, rimettendole quindi in circolazione, ma da un rivoluzionario quanto semplicissimo filtro, l'acqua. Pensate cosa può attraversare l'acqua? Nulla! Ecco perché vi possiamo garantire un pulito al 100%. Ecco già svelate due delle funzioni della nostra innovativa macchina. Grazie all'uso della spazzola con setole arrotondate potremo aspirare la polvere dalle superfici delicate senza rischiare in nessun caso di graffiare la superficie. Con l'utilizzo della bocchetta stretta potremo spolverare l'interno dei cassetti senza svuotarli o come state vedendo il cammino. Questa telepromozione non è soggetta a vendita diretta ma solo a promuovere il nostro rivoluzionario nuvola.